In questa seconda parte del video dedicato ad Amelia, sempre su Discovery Umbria Ternana, parto da questa cosa dietro di me. Vedete il teatro sociale di Amelia, molto carino, molto bello, direi non molto grande, una bellissima acustica e forse proprio l'acustica ha fatto sì che in questo teatro si facessero le riprese di tantissimi film, tra cui due e tre più importanti della storia del cinema italiano, stiamo parlando del Marchese del Grillo e del Pinocchio di Comincini, la parte dove Pinocchio è diventato un asino è diventato anche un'attrazione del circo, lo hanno fatto qua dietro. Amelia ha dato anche i Natali, le origini, altri due personaggi molto importanti del teatro, ma ve ne parlerò dopo, ma già che ci sono ve lo devo dire, anzi ve lo voglio dire, qui alla mia sinistra sono nato io più di 50 anni fa, me lo dice sempre mia madre, la casa accanto al teatro, so che non vi interessa molto, ma mi faceva piacere dirvelo, siete pronti? Andiamo! Ciao! 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 con questo bellissimo scorcio su Amelia, vi saluto e vi invito a vedere gli altri video sul canale YouTube Discovery Umbria Ternana, vi saluto dicendovi come vi ho accennato prima che Amelia ha dato le origini, le famiglie sono nuove qua, anche loro hanno vissuto un po' qua, a due personaggi importanti della storia cinematografica e anche del teatro d'Italia, parliamo di Mario Girotti alias Terence Hill e di Gigi Bruietti, ve lo volevo dire, ora lo sapete, alla prossima, ciao ciao!